Amici di Facebook, un saluto dal vostro Matteo Salvini. Un buon sabato a chi si sta facendo il mazzo, a chi sta studiando, a chi sta facendo i turni di lavoro, insomma a tutti coloro che stanno producendo per il nostro grande paese. Avete sentito la notizia della settimana? Lino Banfi, ambasciatore italiano all'UNESCO, vogliamo cambiare il nome anche alla missione Sofia? Vogliamo chiamarla Lollobrigida e vogliamo chiamarla Pampanini e vogliamo chiamarla Marilyn Monroe? E quindi si accettano nomi e proposte dai miei amici di Facebook. Un saluto, un bacione dal vostro Matteo Salvini. Buon sabato!